Ola 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 ola. Siamo qua per lavorare. Ehi, ho trovato nuovi buchi. Eh sì, è arrivato il mio capo a rompermi, però adesso sono pronto a continuare il video. Oggi devo segnare con la bombolina tutti i buchi che vedo. Vedo un buco. Bene. Questi qua sono già segnati. Devo fare così con tutto il capanone. Adesso devo tagliare un po' di pezzi. So già che in questo canale ci sono 24 buchi, se non veramente tanti. Però cercherò di fare il più presto possibile perché ho altri. Non so quanti canali sono, però devo fare tutti completamente. Tagliare un po' di pezzi. 24. Tagliare un po' di pezzi. Un lavoro che è. Se riesce mai o mai a tagliare. A tagliare dritto. È un po' difficile. Adesso devo attaccare la fiamma. Così già comincio. Può cominciare il primo canale. Sono 3 alle 9. Vediamo in quanto tempo riesco a finire. Sempre una fatica a togliere la fiamma. Questo è un nodo che faccio io stesso. Pettiamo qua. È arrivato il momento di distribuire tutti i pezzettini. Guarda quanti sono. Ero 20 tanti. Credo che perdeva tanta acqua giù. La cosa importante quando fai la guaina. Sono delle cose importanti. È quando scaldi. Ecco la fiamma. Devi fare rivenire tutto il pezzo dove va la guaina. Capito? Ho trovato un altro buco. Vi faccio vedere tutto il processo che devo fare per far rivenire bene. E attaccare ancora un po' il ginocchio. Guarda il buco. Accendo la fiamma. È caldo. Semplice. Non si accende con questo accendino. E così. Bravamente per tutto il caparone. Finito il primo canale. Finalmente. Chi ero sono? Chi ero sono? Chi ero sono? Chi ero sono? Ops. Ci ho messo un bel po' eh. Ci ho messo praticamente un'ora. Questo era più grave. Perciò gli altri ci metterò molto di meno. Così è rimasto. Ho tappato tutte le ferite. Spero che quando piove non ci sia più niente. Che sarebbe l'ideale. Ho almeno diminuito drasticamente. La città di acqua che scendeva giù. Avanti un altro. Siamo arrivati alla fine del video. E ho già praticamente finito tutto. Sono alla fine. E quindi. Mancano. Solo questo canale. E questo canale. Così ho finito per oggi. E spero di tornare a casa prima. Ho già detto che devo controllare anche l'altro nella parte di là. Ehm. Pazienza. 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 Questo è tutto. Spero che vi è piaciuto. Se vi piace iscrivetevi. Ma mettete mi piace. E ci vediamo alla prossima. Ciao.